Poi di vent'appar ragazzi, qua AxelogioMegado, oggi sono al sole e sono qui a presentarvi sul mio nuovo video E ragazzi questo qua è un video veramente speciale, perché? Perché non è né speciale ed è diverso dal solito Quindi un video così è veramente speciale, infatti in questo video non farò il solito pingpale come il wager match Oppure un pack opening, oppure anche uno squad build, perché questo qua sarà un semplice video d'aggiornamento Che cercherò di far durare il meno possibile Innanzitutto carico questo video di domenica perché è un video d'aggiornamento Quindi abbastanza, che può essere sia contemporaneamente utile per alcune persone che inutile per altre Non potevo caricarlo diciamo come mio video usuale, normale E quindi appunto ho deciso di caricarlo solamente un giorno dopo aver caricato l'ultimo video Che era la recensione di Cristiano Ronaldo che ha ricevuto un successo ragazzi della madonna Infatti ha ricevuto 1120 Mepiazza, mi sono veramente felice E sono, cioè veramente, avete dimostrato che ho fatto bene a chiedere all'admin di FIFA CoinStash e Cristiano Ronaldo Un'altra cosa ho chiesto all'admin di FIFA CoinStash e appunto potevo fare il pingpale Infatti il primo argomento di questo video d'aggiornamento sarà il pingpale di Cristiano Ronaldo Innanzitutto ragazzi, una piccola curiosità, forse io speriamo di no, ma proprio speriamo di no Però c'è una piccola possibilità che potrebbe diventare enorme Che non... appunto che appunto... appunto che appunto L'admin di FIFA CoinStash mi casci Per adesso non è successo niente, speriamo che non succeda in un futuro Però secondo le mie previsioni potrebbe succedere Se siete interessati a sapere il motivo magari scrivetemi un messaggio personale e io vedrò se dirvelo o no Comunque ragazzi, parliamo un attimo, torniamo a parlare... Bandari, siancio le band, torniamo a parlare delle pingpale Innanzitutto lo farò, lo farò contro chi? Ragazzi, se tutto va nel migliore dei modi Farò due, massimo tre pingpale di questo giocatore Perché? Allora innanzitutto il primo sicuro lo farò contro il mio iscritto più attivo Adesso vi farò vedere tutto qual è il mio iscritto più attivo Come diventare il mio iscritto più attivo E cose varie E poi innanzitutto se vincerò quello ne farò un altro E quell'altro, ora devo vedere se farlo contro Gente che ha già comprato Che comprerà da fianco al stage Questo appunto dipenderà dalla mia permanenza o meno su questo sito E invece se vincerò anche quello E appunto se la mia permanenza continuerà Ne farò anche un altro normalerrimo Quindi solito proprio Se invece non continuerà ne farò subito uno normale Però la cosa... Io spero veramente di farne tre Comunque la cosa si vedrà Innanzitutto parliamo un attimo del mio iscritto più attivo Qual è il mio iscritto più attivo Come si fa a capire qual è O meglio, come diventarlo Innanzitutto YouTube ha messo questa piccola possibilità In questa app, diciamo Di poter vedere qual è l'iscritto più attivo L'iscritto con il maggior coinvolgimento Dovete andare su gestione video Poi schiacciate su community Schiacciate su fan E ordina per Noi in questo caso facciamo il coinvolgimento Questa qua è la mia top È la mia top degli iscritti più attivi Come vedete al primo post c'è Un iscritto magicissimo Che si chiama Eddie Stefan Al secondo Nicolas Nicoletti E al terzo Viva Molta Las Questi qua sono gli iscritti con il coinvolgimento più alto Innanzitutto come si alza o meno il coinvolgimento Il coinvolgimento dipende dall'aver visto o no I miei video Quindi ovviamente se uno non ha visti più di un altro Ha un coinvolgimento maggiore dall'altro Poi dipende dai mi piace messi Ovviamente adesso non continuerò a dirlo Ma se una persona ha messo più mi piace di un altro Ovviamente il suo coinvolgimento sarà maggiore Stessa cosa per le preferenze Eh sì per i preferiti Per le condivisioni ragazzi Quindi questi 4-5 indicatori determinano Eh si basa il coinvolgimento ragazzi Quindi come diventare un iscritto più attivo di quel che si è già adesso Bisogna aver visto ovviamente tutti i miei video Aver messo mi piace Eh aver messo tanti mi piace Stessa cosa vale per aver aggiunto molti video ai preferiti E stessa cosa vale per le condivisioni Non l'ho detto bisogna ovviamente anche averli commentati Quindi queste qua sono i fattori su cui si basa il coinvolgimento Ragazzi innanzitutto quanto tempo avete O meglio quando sfiderò l'iscritto più attivo Lo farò martedì Perché è martedì? Perché ragazzi ho ordinato la mia nuova Una nuova webcam Che è questa qua Che è una Logitech HD Pro Webcam C920 Che tecnicamente parlando mi dovrebbe arrivare martedì Così che proprio inaugurerò Farò questo mega pink pal di Cristiano Ronaldo If Con una nuova webcam Quindi la facecam sarà una magicata tremenda E quindi avete fino a martedì Il tempo di fare tutte queste cose Che vi ho appena elencato Ragazzi poi c'è un attimo una piccola cosa Voi vi starete chiedendo Ma se io gioco su Play E divento l'iscritto più attivo Cosa succede? Innanzitutto come potete vedere Per adesso L'iscritto più attivo gioca su Xbox 360 Che infatti ha commentato il contest Scrivendo Xbox 360 Perché lui dato che gioca su Xbox 360 Dovrebbe ricevere i crediti appunto Per quella console E se appunto nel caso in cui vincesse il contest Però se voi siete su Play Cosa succederà ragazzi? Mi scuso alla grande Ma per questo Pink Pale Io sfiderò proprio La persona che gioca su Xbox 360 Perché? Perché io Cristiano Ronaldo Ce l'ho lì ragazzi E poi non avendo FIFA Su Play 3 Non posso far nulla di simile Quindi mi scuso Ma se ad esempio La prima persona È un È un iscritto Che gioca sulla Play 3 Io andrò a scegliere magari La prima persona Che giocherà su Xbox Quindi questo qua Mi scuso veramente alla grande Però ragazzi Perché scelgo È di giocare con il tuo iscritto più attivo E non di farne una Una normalissima estrazione Un Pink Pale normale Perché ragazzi Ho pensato E mi hanno detto Che c'è la possibilità Che magari qualcuno I miei video Non se li fila nemmeno Non se li fili nemmeno Non se li caghi Però partecipa appunto Al Pink Pale Perché ci può solo guadagnare Quindi io ho detto Mmm avete ragione E quindi facciamo Sta piccola cosa Ragazzi Poi un'altra cosa Che vi volevo dire È che FIFA CoinStay Sta facendo un contest O meglio Ogni settimana Farà un contest su Twitter Se è un contest Dove si potrà vincere Uno dei migliori giocatori Della squadra Della settimana attuale Ad esempio In questa settimana C'è Lewandowski Secondif Come partecipare A questo contest? Innanzitutto ragazzi Bisogna aver comprato In quella determinata settimana Un pacchetto di credit Possono essere 50.000 Come anche un milione E una volta fatto ciò Voi dovrete andare Sul loro profilo Twitter Andate a vedere Il tweet relativo Che adesso vi sto facendo vedere Per questa settimana È questo E praticamente Dovete ritwittare il tweet Poi loro Il mercoledì pomeriggio Prima dell'uscita Della nuova squadra Della settimana Faranno l'estrazione E contatteranno il vincitore Il vincitore Una volta essere stato contattato Cosa dovrà fare? Dovrà inviare loro Il codice Il numero dell'ordine Così che appunto Loro possano controllare Che voi abbiate veramente Comprato credit In quella determinata settimana E se tutto va bene Vi danno Vi danno il giocatore Se ovviamente qualcosa va storto Faranno un'altra estrazione Quindi ragazzi Queste qua erano le piccole cose Che io avevo da dire Non è vero Perché no? Un'altra ragazzi Volevo sapere Se volevate che caricassi Anche i video Di Call of Duty Ghost Sul primo canale Io avevo intenzione Di caricarli sul secondo Però ho pensato Ma si dai Anche per restare Un attimo più attivo Potrei anche caricarli Sul primo canale Quindi ragazzi Mi raccomando Fatemi sapere Quindi ragazzi Lo ha detto questo Io ho detto tutto Spero di non essere stato Troppo noioso O meglio Non aver fatto durare Il video troppo lungo E quindi Detto questo Io vi saluto E vi dico potente A palazzo Nel prossimo video Bolla Grazie a tutti